siamo tornati siamo tornati per l'ultima volta non proprio, questo sarà l'ultimo film del maestro Noiazaki che esamineremo insieme a Gualtiero abbiamo un ospite questa sera con noi, inutile che ve lo nascondo ve lo faccio apparire al volo, tanto è nel titolo per grabbargli un po' di views abbiamo con noi questa sera a parlare della principessa Mononoke per manga e anime sul serio, Domenico Caverna di Platone, buonasera Caverna buonasera a tutti, sono qui in veste di spettro anche io, buonasera ciao Gualtiero, ciao Delli buonasera a tutti, e allora prima di iniziare come al solito la nostra sigla di manga e anime sul serio, che forse Domenico non l'ha mai vista e forse ti piacerà molto is not for me is not for me but if I'm with me I can stage my mind in the middle of time is not for me is not for me where I can stage my love purtroppo torniamo sempre bruscamente perché Streamyard ancora non ci dà la possibilità di sfumare ti è piaciuta la sigla? ero totalmente rapito poi all'improvviso troncato I love you beh, ringraziamo come al solito Tyrrenian che ci ha fatto questa bellissima sigla e prima o poi, prima o poi, lo avremo con noi ma come vi dicevo, questa sera si parla in questo quinto episodio di manga e anime sul serio anche dell'ultimo film che affronteremo insieme a Gualtiero riguardo la produzione del maestro ora lo posso dire Miyazaki e non più Noyazaki insomma, in questo percorso ho trovato tante cose interessanti ma questa sera si parla della principessa Mononoke che ho visto in occasione appunto di questo incontro per la terza volta e posso dire che è un film che non mi è piaciuto prima di spiegare perché non mi è piaciuto nei contenuti ci addentreremo piano piano prima anche di coinvolgere Domenico dobbiamo partire da la prima cosa che non ho capito perché la principessa Mononoke che lei non si chiama Mononoke almeno nella versione italiana Mononoke si sente soltanto in una canzoncina che ho sentito in sottofondo nella versione italiana perché la canzone è in giapponese certo però che cosa vuol dire? che cos'è Principessa Mononoke? io non mi sono informato su nulla capito? sono venuto stasera proprio ad addestrarmi dalla battuta che ha fatto prima Domenico Platone dicendo sono anche io uno spettro questa sera lo vorrei spiegare a lui ok non potemi fare il saputello almeno una sera eh vabbè ok allora giustamente mi devo prendere anche la responsabilità poi se sbaglio vengo sempre punito però Mononoke Ime significa la principessa spettro lei è la principessa degli spettri Mononoke che si trovano nella foresta e che infestano la montagna e questo è il senso del titolo esattamente così eh di più aspetta un momento un momento un momento perché la domanda poteva sembrare stupida io l'avevo capito ovviamente però mi sono chiesto come mai se nell'adattamento che c'è all'interno del film lei viene chiamata Principessa Spettro anche il titolo non è stato adattato per farlo capire a tutti domanda legittimissima ok la prima cosa che volevo dire che è importante è che la parola giapponese Mononoke è una parola antica che significa spettro nel senso di spirito maligno che prende possesso delle persone di causa malanni proprio lo spirito maligno no? però è una parola antica e oggi come oggi nel giapponese corrente la stessa cosa si direbbe in altro modo soprattutto yuree oppure anche solo re però Miyazaki ha voluto utilizzare questa parola antica e storica non è una parola difficile anzi non è una parola un po' arcaica per i giapponesi tant'è che ci sono state addirittura delle strisce umoristiche sui giornali quotidiani giapponesi dato che questo film nel 1997 fece un boom fattesco in Giappone e ironizzavano per il fatto che questo titolo nessuno lo capiva che vuol dire le persone comune giapponesi manco capivano il titolo però tutti lo volevano andare a vedere questo film e quindi penso che dal Giappone nel 97 a seguire quando il film venne venduto in America alla Disney essenzialmente pensarono che la parola mononoke fosse molto iconica e in inglese questo film si chiamava princess mononoke da cui l'origine dei mali diciamo che la parola mononoke è diventata molto iconica è diventata molto riconoscibile commercialmente famosa e quindi posso comprendere che anche l'editore dell'ultima edizione distribuita in Italia della Chied non se la sia sentita di cancellarla persino dal titolo ok ok però già che abbiamo parlato del titolo dobbiamo subito affrontare Elefante nella stanza è il primo adattamento di Qualtiero che trovo veramente veramente difficile e però però attenzione davanti alla difficoltà sembrava quasi un testo teatrale incredibile bellissimo per questo voglio subito fare una domanda domenico la sua impressione di di questo adattamento cosa ci restituisce sarebbe stato il caso di semplificarlo un pochino perché la mia difficoltà alla terzo ascolto dove stavolta ero attento quindi ci facevo caso le altre volte forse l'ho dato per scontato vedevo un mondo medievale parlavano strano funzionava magari stavolta dopo le polemiche dopo che ho parlato con Qualtiero centinaia di volte mi ha detto e mi ha detto ascolta bene stavolta quindi ho stato lì così e ci ho fatto maggiormente caso grave errore grave errore meglio meglio non prestare attenzione allora eh questo sarà un discorso lungo che voglio accorciare il più possibile perché Principessa Mononoke è uno dei film eh dello studio Ghibli che io amo di più forse quello che amo di più in assoluto perché l'ho visto moltissime volte sia la vecchia edizione a buona vista che la nuova Lucky Red credo di averlo visto in totale è un centinaio di volte e penso tantissimo è vero infatti io conosco quasi a memoria le battute eh i sentimenti il senso di quello che viene detto e in realtà trovo la prima edizione di Buona Vista molto semplice mutuata da ciò che aveva fatto eh Neil Gaiman all'epoca che si occupò di riscrivere pure un pochettino della sceneggiatura del film per renderlo più adatto al pubblico americano e poi da noi è arrivato eh un po' pulito da quelli che sono i riferimenti storico-culturali eh del film che invece vengono tutti ripresi nell'adattamento nuovo di Gualtiero e devo dirti che in realtà di Gualtiero sa bene che magari ho delle difficoltà con i suoi adattamenti non è un metodo che userei io ma Principessa Mononoke è quello che secondo me si confà meglio a essere adattato in questo modo e io questo eh nuovo doppiaggio l'ho trovato piacevole sempre piacevole mai avuto una difficoltà nello scorrere delle parole di seguire eh tutto ciò che accade mai mai avuto un problema con gli altri magari mi sono soffermato oppure ho riso per certe cose Principessa Mononoke invece funziona benissimo adattato così da Gualtiero l'ho rivisto proprio oggi in occasione di questa nostra serata e mi sono ricordato che è bello come sempre anche in questo italiano filtrato di Gualtiero è bello come sempre quindi non ho mai nessun problema Gualtiero italiano filtrato però io che ormai ti conosco un po' credo di aver colto perché io quello che ho percepito è questo è un mondo medievale tu proprio prima della live mi parlavi di un film molto etnico è come se guardando il film grazie all'attamento sembra veramente di andare in un'altra epoca fatta anche di una certa teatralità perché il testo sembra teatrale per certe cose cioè parlano come se fosse una qualcosa che ho sentito al teatro ma roba ad alto livello ora mi chiedo come era in giapponese e un po' sulle tue scelte che sono veramente curioso allora innanzitutto ringrazio Domenico di Platone tornando a te tu prima che iniziassimo questo nostro spazio così avevi citato qualcosa di Shakespeare in realtà ti hai un massimo stretto ma si ma a culo lo sa perché poi dietro a una sincronia c'è sempre un'intuizione perché devo farti sapere che l'autore che Miyazaki Hayao non sono io ha citato almeno due riferimenti Shakespeareani molto diretti per questo film per il testo di questo film per i personaggi di questo film in particolare il personaggio di Eboshi è stata paragonata da Miyazaki a Lady Macbeth nel senso la drammaticità di Eboshi il suo essere in qualche modo quasi al di là persino dei massimi valori dell'umanità nel senso lei è una persona che per il bene della sua comunità è pronta a decapitare un dio Miyazaki Hayao l'ha paragonata a Lady Macbeth ma con l'attrice originale che la interpretava non con me di questo film noi sappiamo molto perché dato che fu il film con cui io ti avevo spiegato che il primo film con cui lo stadio Ghibli fece boom in Giappone fu Kiki poi lo stadio Ghibli inanellò una serie di successi e poi fece un grande boom con questo film quindi ovviamente come tu sai quando una cosa fa un grande boom e diventa un fenomeno di costume tutti vogliono saperne chi di più certo quindi mai prima di allora si pubblicò così tanto materiale ufficiale collaterale di un film Ghibli quindi ci fu un lunghissimo The Making Of titolo Mononoke Hime che ha accosti in umanità ovvero Mononoke Hime è nato così in questo modo erano tre videocassette laser disc corposissime dove c'era di tutto di più e quindi si sanno tante cose si vede Miyazaki che dirige gli attori quando ho fatto l'edizione italiana mi sono tolto lo sfizio di dire agli attori italiani le stesse cose che Miyazaki aveva detto agli attori giapponesi le stesse indicazioni proprio da fanatico a parte ciò sì c'è questa teatralità ha ragione ma è solo uno degli ingredienti di un film molto particolare sicuramente il più non voglio dire impegnato ma il più greve il più pesante dal punto di vista proprio dell'autore secondo me guarda questa cosa l'avrei voluta l'avrei voluta prendere dopo ma ne approfitto adesso per parlarne col caverna ho avuto l'impressione di essere davanti un po' a uno shonen a un cine fumetto a un fumettone perché ci sono alcuni elementi che mi hanno ricordato un po' i Nui Asha vabbè forse la maledizione al braccio è diventato anche un fumettone con i film comic quindi sì dopo lo è diventato ok no ma ha tantissimi elementi che mi hanno piaciuto perché a livello di intrattenimento e azione l'ho apprezzato tantissimo e però quello che ho trovato rispetto a tutti i film che mi ha fatto vedere Qualtiero fino adesso e anche qualcuno che ho visto magari ecco fuori da questa rassegna mi è sembrato veramente duro arti che saltano via facilmente non ho capito non ho capito questo film come si piazza all'interno della sua filmografia mi sembra totalmente diverso da tutto il resto e soprattutto come mai secondo te questo passaggio di tono non lo so mi sembra molto diverso dal resto tu però hai visto più di me quindi magari non è così beh pur mantenendo quella che è tutta la cifra stilistica e narrativa di Miyazaki Ayao all'interno di questo film partendo dall'emancipazione femminile le donne che sono la spina dorsale di tutto ciò che è il film anche Ashtaka pur essendo un grande eroe principe degli emisci si rifà a una società matriarcale la saggia e somma chi è la donna che decide che lui dovrà morire da solo dovrà accomiatarsi dagli altri Moro è la lupa il dio cane che cresce San è una donna San Moronoke è una donna Eboshi è una donna eccetera 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 oltre questo per la delicatezza di tutti i passaggi una certa vivacità anche nell'animazione ci sono dei momenti particolari come Ashtaka che prima di prendere una ciotola d'acqua per il soldato che sta portando in spalla la sciacqua prima la sciacqua prima e poi gli dà a bere tutto questo che fa sempre parte della ricchezza di Miyazaki Ayao che fra l'altro ha ritoccato se non sbaglio 80.000 disegni di più di 100.000 di quelli che sono stati realizzati per il film personalmente personalmente ritoccati perché questo era l'ultimo film che lui ha diretto anche come animatore intervenendo personalmente quindi credo che volesse davvero dare tutto è un film sicuramente feroce è il film più feroce proprio cattivo è un film che parla sostanzialmente di malattie Ashtaka è malato Ashtaka è malato e per questo deve andare via e va nella città del ferro dove trova altri malati lebrosi e poi si scopre che la malattia vera è la malattia dell'odio lui è quello davvero marchiato da una maledizione però in realtà sono gli altri ad essere più malati di lui perché covano dentro di loro quest'odio profondo che non riescono e non riescono a pulirsi di questo credo che sia questa sostanzialmente la ragione anche la bellezza di questo film il fatto che sia così feroce così violento voler raccontare la difficoltà di comprendere gli altri per farlo c'è bisogno anche forse un po' di carnalità magari Miyazaki voleva metterci un po' di carnalità io non lo posso sapere però sicuramente dalle interviste è chiaro che aveva l'urgenza di raccontare la difficoltà nel far comprendere agli altri quanto il mondo è malato per via delle persone che sono malate guarda quindi è come se mi stai dicendo che il tono le immagini cruenti servissero a raccontare un tema così così forte Gualtiero tu che ne pensi di questo? Penso che tutto quello che ha detto Domenico è verissimo io più che andare a scorporarlo vorrei aggiungerci sopra delle cose per mettere un altro po' di carne intorno all'osso vai ovvero probabilmente se ben ricordo Domenico di Platone è un grande appassionato anche di fumetto soprattutto è probabile quindi che tu abbia letto conosca il fumetto di una fica della Valle del Vento certo ok come io ti dicevo Domenico Rodelli Nozica della Valle del Vento come film fu il primo film realmente autoriale di Miyazaki dove lui si metteva al lavoro su un soggetto suo personaggi suoi un'opera sua era tutto suo era il regista di un film tutto suo però c'aveva un'età quando ha iniziato a fare questo film poi il film finisce in realtà a quello che è il principio della storia di Nozica poi la storia di Nozica come fumetto sarebbe andata avanti sarebbe andata avanti lentamente e lungamente perché Miyazaki ci si dedicava tra un film e l'altro dato che lui considera la sua occupazione principale fare i film quindi quando Nozica è arrivata a fine quella era una storia lunghissima che Miyazaki aveva portato avanti mentre invecchiava una cosa del tutto umana quindi la fine di Nozica è scritta da un uomo molto diverso dall'inizio di Nozica perché la persona nel tempo cambia quindi ovvio che quando Miyazaki è arrivato alla fine a parte che si sentiva molto svuotato perché aveva completato una cosa così interiore così pesante per lui però questa cosa non era completata al cinema era completata nel fumetto Miyazaki non ti fa un seguito quindi secondo me e come in taluna intervista è anche abbastanza chiaro lui ha sentito il bisogno di fare di partorire quello che Nozica era diventato in forma filmica cioè di esprimere la conclusione di tutte quelle premesse che tu puoi vedere nel film di Nozica ma la conclusione a cui lui era pergiunto dopo tanti anni di crescita personale di riconsiderazione come capita per questo secondo me il film tratta di ciò che diceva Caverna ovvero della malattia che in qualche modo Miyazaki in quegli anni in quegli anni stavamo parlando della seconda metà degli anni 90 avvertiva nei cambiamenti sociali di un senso di disagio anche di una persona che cominciava ad essere anziana stavamo parlando di Miyazaki Hayawa non era più un giovane animatore come quando faceva Nausicaa a suo debutto immagina l'entusiasmo al contrario sentiva il bisogno di partorire anche questo malanimo oserei dire un malanimo peraltro destinato a non trovare una risoluzione perfetta perché la cosa secondo me significativa di questo film che può anche far storcere il naso soprattutto un certo tipo di pubblico occidentale dell'animazione è che tutto il malanimo che Miyazaki mette in scena non è destinato a trovare una risoluzione perfetta cioè come dire le cose vanno male e non è che c'è la chiave per farla andare bene neanche il rapporto tra i due e i protagonisti è destinato al coronamento dell'amore come si direbbe nella narrativa classica e poi c'è il discorso appunto che faceva sempre Domenico del fatto che Miyazaki con questo film ha veramente pensato di dover finire di dare tutto sarebbe stato l'ultimo film completamente fatto a mano sarebbe stato il film che lui doveva completare completamente con le sue mani e infatti chiese uno sforzo produttivo parentoso che rischiava di portarsi nel baratro in caso di fallimento non solo lo presegibili ma tutta la documentazione che lo produce ok ok però guardate avete parlato entrambi di cosa avete visto nel film e devo dire che posso anche ravvisarlo ma mettetevi nei panni di uno spettatore sotto la media che sarei io perché uno l'ha adattato e l'altro l'ha visto cento volte quindi immaginate che la maggior parte delle persone probabilmente è più come me che come voi allora nonostante io abbia ravvisato i temi che voi avete appunto enunciato io l'ho trovato un po' banale in tutto in realtà mi è sembrato come se tutto quello che voi avete detto fosse raccontato in un modo con troppe altri concetti che ci sono dentro che sono anche un po' l'ho trovato alcune cose anche delle ripetizioni di quello che ho visto e che è come se questi temi fossero già stati affrontati da altri non so se prima di lui o dopo di lui perché potrei aver visto alcuni film ovviamente se penso anche solo a Wall-E è ovvio che sarà stato fatto 20-30 anni dopo questo film adesso non ricordo però perché io il tema della lotta tra l'essere umano che corrompe la natura e la natura ce lo vedo perché è così è per forza così ci sono proprio due due parti che lottano per il bosco in poche parole uno per poterlo sfruttare l'altro per poterci vivere Domenico Caverna non è che avendolo visto tu tante volte Gualtiero avendoci lavorato e quindi diciamo essere troppo dentro non vi accorciate di quanto forse è un po' dispersivo il film e di quanto sia alla fine forse il tema anche un po' trattato banalmente nel senso che è già stata raccontata questa cosa in altri modi ma non riesce a centrare il punto se il punto è quello che volevate voi ma il punto non lo voglio né io né Gualtiero e nemmeno il pubblico probabilmente forse il punto lo vuole solo l'autore e forse nemmeno lui riesce a raggiungerlo però non è questo il modo di comprendere questo film io lo trovo incantevole e straordinario per la sua profonda onestà come diceva prima Gualtiero giustamente il film non trova una risoluzione non c'è un modo giusto di dire gli uomini continueranno avanti così e la natura continuerà avanti così non esiste è un film che non dà risposte è un film che al massimo fa domande è un film che lascia l'interrogativo allo spettatore è un film che vuole che forse in una maniera egoistica pretende che siano gli altri a trovare una risposta e dire magari dalla parte di Miyazaki io do questo lascito al mondo che è la speranza che voi troviate un punto in comune perché io sono arrivato a un punto dove nella mia epoca il punto in comune non c'è dopo ci sarà lo troverete voi lo farete voi e io magari non lo posso più fare io ho lavorato io ho dato ho dato questo al mondo voi se riuscite fate meglio di me io volevo fare una domanda a Canerna volevo chiedergli quando è stato che tu hai visto per la prima volta questo film e dove l'hai visto cioè in che formato l'ho visto in DVD l'ho visto in DVD a casa l'ho visto in DVD a casa perché te lo chiedo perché io ho visto per la prima volta questo film in videocassetta giapponese mentre stavo lavorando con il traduttore a Evangelion la prima edizione quindi ci trovavamo alla fine degli anni 90 e inizialmente questo film non mi piacque cioè non mi conquistò certo vedevo la magnificenza delle animazioni ma è una realtà però questa rappresentazione della natura lussureggiante totalmente fascinosa ne vedevo anche la ferocia come tu giustamente sottolineavi però diciamo che il film non mi conquistava il mio sincero sentimento è che io sia una persona tendenzialmente tarda lenta cioè che ci metterò il mio tempo e neanche particolarmente io ci ho messo cento visioni però però il fatto è che secondo me e questo invece lo dico a te Domenico Delli quello che è straordinario è che se tu pensi a tutti i film di Miyazaki che hai visto prima di questo si arriva a una risoluzione Lausica è una risoluzione quasi messianica cioè quasi scatologica lei sembra morta poi invece è risorta come la salvatrice il film di Lausica in Laputa si arriva a una risoluzione perfetta ovvero quella segura civiltà purga i cattivi fa precipitare musca poi si disgrega i buoni sono tutti salvi e questa questa minaccia è scomparsa perché è rimasto solo l'albero per il cielo Totoro non l'hai visto ma arriva a una perfetta risoluzione perché c'è lo spirito che salva tutti chi ne arriva a una perfetta risoluzione perché lei è stata depressa ma ce la fa salvatombo e si inserisce perfettamente nella società della città che dapprima la rifiutava si arriva a una perfetta risoluzione quindi in realtà io credo che anche pensando a me stesso ragazzino cioè ragazzino ragazzotto che ha visto per la prima volta questo film penso che ci fosse un sottile turbamento un senso di inquietudine di questo film dove succedono tutte queste cose drammatiche ma alla fine non si risolvono e loro tra l'altro sono dei personaggi che costantemente si sporcano durante il film Ashtaka è un principe eroico salva tutti ma ammazza un sacco di persone nel film assolutamente assolutamente non è come gli altri eroi addirittura cioè invecchiando la mia scena preferita del film questo lo dico a te Domenico di Caverna per sentire anche la tua impressione la mia scena questa è la mia sensibilità preferita è quando verso la fine quando lo Shishigami il dio bestia è stato decapitato è stata compiuta la caccia al dio bestia essenzialmente San possiamo dire che da di matto ha una crisi di nervi che arriva che passa a tutti gli stadi di una crisi psicotica perché lei va in negazione in rifiuto aggredisce Ashtaka e poi alla fine crolla depressa dicendo ormai è finita e Ashtaka gli fa coraggio non dicendogli no stai tranquilla poverina non è finita gli dice no no aiutami prestami le tue forze noi siamo ancora vivi e da quel momento i due sono marito e moglie nel senso che si intendono con una parola sono una coppia e una cosa in una rappresentazione così simbolica siamo nell'epoca muro maci fantasizzata la mia azzari ci stanno le creature del bosco essenzialmente sai il classico the lost world il classico fin dai tempi non mi ricordo neanche di che fosse il libro originale però diventò un classico il paradiso perduto dove ci sono ancora gli archetipi naturali gli animali giganteschi e in questa fantasizzazione vediamo un ragazzo che è riuscito a capire il trauma tragico veramente di una ragazza ne ha compreso il cuore l'ha abbracciata e sono diventati coppia e nonostante questo non finiranno insieme è una scena molto toccante molto bella io poi la risoluzione di quello che accade poco dopo in formato Gashapon proprio la statuetta di loro due che sollevano la testa del dio bestia sì 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 la rendono un momento un momento davvero molto molto bello molto toccante io adoro la presa di posizione di Ashtaka penso che in realtà la mia scena preferita sia quando lui arriva nella città fornace e stanno combattendo le due donne e lui arriva con il il braccio rovinato dalla maledizione prima di tutto spacca tutti prima di tutto spacca tutti e poi gentilmente dice per favore potreste smetterla di combattere perché non serve a niente dobbiamo parlare poi parlando non risolve nulla e dà due cazzotti ad entrambe è magnifico se devo parlare con la vostra lingua vi faccio vedere che so parlare la vostra lingua guarda lì nel momento di quella scena c'è nel The Making Of quando Miyazaki dirige quella scena allora qui era il personaggio di Ashtaka Miyazaki richiamò lo stesso doppiatore che fa Asbel in Nausicaa ovvero non mi ricordo il nome Matsuda Yogi e gli chiesero perché nel senso i personaggi hanno più o meno la stessa età l'attore invecchiato perché gli chiesero e lui rispose che l'aveva chiamato perché aveva valutato vari attori e secondo lui solo Matsuda aveva nella voce la giusta non eleganza ma nobiltà d'animo quando Matsuda fa quella scena io ho empatizzato molto come faccio anche il direttore di doppiaggita essenzialmente fa quella scena e si spolmona perché sai che lui fa quella specie di arringa in cui urla a pieni polmoni lui si spolmona e Miyazaki gli dice molto bene però però è terribile però è terribile però ahia ahia molto bene però ci devi mettere un po' della rassegnazione a prioristica di chissà che sta facendo un discorso che tanto non verrà seguito e non verrà capito ma in ossequio alla sua etica molto personale lo deve dire comunque mazza questa cosa è fighissima perché probabilmente perché tu poi lo capisci che Ashitaka anche se dice quella cosa tanto lo sai che non servirà nulla però lo deve dire e poi come dice giustamente Caverna vabbè ora che ho detto quello che dovevo dire sono un cazzotto a destra e una sinistra mi carico la fanciulla chiamo gli altri per questa donna che è comunque tramortito e se ne va e se ne va guarda già che abbiamo parlato di Ashitaka che io considero e penso sia considerabile il protagonista stavolta del film non una protagonista femminile questa volta rispetto a tutto quello che ho visto Gualtiero nei precedenti film aveva spiegato che in realtà Mia Zecchi ripone moltissima fiducia soprattutto nella fanciullezza che poi ripone moltissima fiducia nella vecchiaia anche della saggezza degli anziani allora riguardando il film ho notato che questa cosa rispetto agli altri film manca e che Ashitaka è saggissimo è buonissimo fa tutta la cosa giusta è come se avesse la saggezza dell'anziano e la nobiltà d'animo della bambina come mai questa volta secondo te Caverna un personaggio maschile che fa il personaggio ed è il diciamo così la base morale di tutti i personaggi anzi né la bambina né l'anziana non è proprio l'anziana però la donna più matura riescono a essere sagge eppure d'animo in qualche modo seppur magari si potrebbe considerare la principessa Manonoke pura in qualche modo secondo la sua morale ma guarda io credo che Ashitaka in realtà sia semplicemente il processo di tutta una società matriarcale cioè se lui è così è perché intorno ci sono state sempre le donne che lo hanno istruito per bene e non a caso quando poi si confronta con altre donne le cose funzionano bene perché ha i giusti modi ha il giusto spirito ha il giusto modo di confrontarsi con loro perché le rispetta prima di tutto cioè sa come devono come devono funzionare alcune cose perché rispetta il lavoro delle donne e soprattutto non è non è così saggio perché poi gli mancano delle cose lui non conosce effettivamente cosa cosa accade nella città fornace infatti lui si va a informare ecco per me Ashitaka più che altro è un detective gli succede questa cosa e lui deve tornare a ritroso seguire proprio le orme del dio cinghiale e scoprire perché non tanto perché ha la maledizione questo lo sa se la può risolvere ma soprattutto perché è accaduto questo è un detective dell'epoca Jomon va lì e si informa scopre tutto domanda alle donne voi che mestiere fate questo io lo voglio fare anch'io voglio capire non è sempre saggio diciamo che durante il film la sua saggezza aumenta perché comprende ciò che fanno le donne ciò che fanno gli altri li comprende sempre e questa è la sua grande caratteristica Gualtiero? c'è da dire e questo è uno di quegli elementi secondo me molto culturali ed etnici che rendono la lettura di un film come questo più difficile per noi chiaramente Ashitaka non so se tu che ami molto i saggi e quel tipo di letteratura ti sei mai interessato che so ai romanzi filosofici di Voltaire Ashitaka in questo film non che c'entri qualcosa non che stia dicendo che Miyazaki abbia portato questo ma Ashitaka di fatto siccome è l'esponente di una perduta civiltà dei primordi se parliamo di storia giapponese che è la civiltà Emishi che in realtà nell'epoca in cui Miyazaki ha collocato il villaggio di Ashitaka già non esisteva più però Miyazaki che fantasizza tutto ha detto facciamo che esisteva ancora un villaggio super nascosto vabbè però questa civiltà che per la storia giapponese è quasi una civiltà preistorica non conosceva la popolazione erano cacciatori e raccoglitori non conoscevano il denaro infatti Ashitaka paga con la pepitina d'oro quindi in qualche modo Ashitaka è il buon selvaggio degli antichi tempi degli antichi mores e si mette in viaggio nella modernità per andare come diceva Caverna a scoprirla con totale onestà a capire le ragioni di tutti a capire quali sono le ragioni di due fazioni che stanno avendo un conflitto a cui lui non appartiene né all'una né all'altra perché lui è esponente di un primordio che non esiste più quindi quando Ashitaka va a capire come campano le donne della fucina lo vuole capire ne vuole fare esperienza ma la cosa è bellissima perché quando lui esprime con tutto il suo candore la sua ovviamente purezza d'animo è anche un candore che ha gli occhi in qualche modo già sporchi della vita di Eboshi può sembrare persino un'ingenuità quasi infantile quando Eboshi gli dice sì ma tu che sei venuto da fare qua e lui gli risponde parola per parola ripetendogli la missione che gli ha dato l'anziano sciamano ovvero sono venuto per discernere con pupille non offuscate e così decidere Eboshi gli scoppia in faccia a ridere gli scoppia a ridere in faccia bravo bravo allora vieni che mo te lo faccio vedere cosa devi capire e gli fa vedere il broso è molto interessante vedere come anche una visione pura intonsa ancora non sporcata abbiamo perso Domenico per un attimo ti hai ribloccato come la visione pura ancora non sporcata dalle brutture della vita si potrebbe dire di Ashitaka e in qualche modo viene lanciata in un'epoca di conflitto di cui lui in teoria ancora non sa niente vi dirà nel suo aeremo chiaro guarda mi avete convinto su questo punto questo approfondimento del personaggio adesso mi è un po' più chiaro c'è un personaggio che però al contrario mi è totalmente oscuro non l'ho capito il monaco che inizialmente entra in contatto con Ashitaka che lo aiuta e poi in un secondo momento scopriamo essere inviato se ho capito bene dall'imperatore per prendere la testa del dio bestia e poi parleremo un attimo del il dio bestia che fa sorridere e io non ci trovo decontestualizzato fa sorridere dentro il film mi è sembrata la cosa più naturale del mondo ma di questo ne parleremo tra poco mi dovete spiegare un po' meglio la figura perché non ho capito perché in un primo momento lui aiuti Ashitaka lo indirizzi in una parte come se potesse essere non lo so un punto debole dentro la fortezza non mi è chiaro Domenico beh lui è un'eminenza grigia fai finto tonto vuole ringraziarsi Ashitaka in realtà è un doppio giochista gli serve gli serve qualcuno che riesca a forzare tutto e Ashitaka è quello è lo scimmiotto forte che viene dalla montagna poi si ritrova con una forza Erculia grazie alla maledizione quindi potrebbe forzare le cose e riuscire plagiandolo magari a ottenere la testa del dio bestia cosa che poi accade effettivamente solo che poi si vengono disattese tutte quelle premesse sue e ci perde poi chiaramente la figura storica sicuramente Quartiero l'ha approfondita molto più di me molto meglio e si dilungherà sicuramente meglio di me io lo vedo come un simpatico vecchietto che sta lì a osservare c'è sempre questa figura del vecchietto che sta lì a osservare e cercare di spingere per trarne un certo vantaggio è una figura quasi completamente negativa però lo trovo sempre simpatico negativa e simpatico infatti tu sai sicuramente avrai notato a caverna che e lo dico anche a te Domenico Delli c'è una geometria quasi perfetta quasi perfetta tra i personaggi di Nausicaa e i personaggi di Monarchime parlo dei due film una geometria quasi perfetta l'equivalente del Bonzo Chico è Crotoa il consigliere di Ksan nelle parole di Miyazaki spesso e qui torna il discorso shespiriano lui diceva che spesso nella commedia nella drammaturgia ci sono questi personaggi di persone che sembrano viscide che comportano in maniera anche viscida e sembrano pensare solo alla loro pancia essenzialmente però poi alla fine sono semplicemente utilizzo le parole di Miyazaki dei vivi nel mondo dei vivi cioè quelli che devono in qualche modo tirare e accampare e per fare questo siccome in genere sono astuti e scaltri gestiscono si muovono in tutte le situazioni in cui si trovano capitano in realtà secondo me io a me il il buon Gicopo io lo chiamo buon mi ha sempre fatto pensare forse lui non è così intelligente ma ha un donabondio più furbo è come dire vabbè non peschiamo gli piedi ma d'altro canto questi due ragazzi se lo debbbero avere ragazzi ma come facciamo se cerchiamo di dare un colpo a cerchio uno alla botte uno pure per terra cioè che ci siamo che non si sa mai era un personaggio se vogliamo molto realistico perché il personaggio meno ideale cioè in questo grande conflitto che si agita in questo grande scacchiere lui è il personaggio che è uno un po' con mezzo in mezzo nel senso è molto realistico scusate una cosa ci sono altri personaggi non umani che pure non mi sono chiarissimi i gorilla cioè quando io vedo le scimmie delle scimmie quando vedo l'intervento il primo intervento che fanno le scimmie stanno parlando con con le divinità cane loro dicono faccelo mangiare perché così noi prenderemo l'essenza dell'umano e il cane dice ma non è vero sarete solo corrotti dal mangiare un essere umano in realtà loro dicevano che volevano uccidere tutti gli esseri umani però in quel momento loro li fermano io non ho capito il motivo per cui li fermano quando poi ci sarà una battaglia quasi suicida da samurai gli esseri umani con gli archibugi perché fanno quell'intervento perché qual è il loro senso nella storia io ho solo una mia idea personale perché non ho mai trovato fonti diciamo di interpretazione autentica su questo merito quindi vorrei sentire prima l'impressione di domenica guarda le scimmie inevitabilmente sono sempre legate agli uomini inevitabilmente c'è qualcosa che ci collega a loro ma non non meno di quanto siamo collegati che so ai topolini ai maiali diciamo geneticamente da quel punto di vista siamo quasi tutti uguali però la scimmia molto simile all'uomo inevitabile che ci sia sempre un punto di contatto un collegamento credo che vabbè in quel momento c'è anche la necessità di far vedere una pluralità delle divinità che ci sono intorno alla montagna non ci sono soltanto quelle creature e le scimmie naturalmente hanno un comportamento ancora più umano cioè loro non è che mangiano una preda arrivano lì a cannibalizzare dicono fammi fammi vedere se io sono capace di diventare come loro mangiando il meglio di loro meglio di loro mangiandoli è un comportamento molto molto tribale molto schifoso chiaramente e San gli ricorda che no se lo fate magari venite anche lei non lo sa però dice magari venite corrotti dall'avidità degli uomini se li mangiate forse non assorbite il potere ma visto che la caratteristica più evidente in questo momento è l'avidità e la corruzione la cattiveria magari diventate cattivi quindi potrebbe essere il film a un certo punto sarebbe potuto diventare il pianeta delle scimmie io penso che essenzialmente sia come dice onestamente non ci avevo mai pensato in realtà ho fatto rispondere ho chiesto a camera di rispondere bravo un'ottima strategia bravo penso che sia vero mi viene da pensare che in qualche modo allora questo lo sappiamo per certo Miyazaki ha preso l'epoca Muromachi e la messa in scena come metafora della seconda metà degli anni 90 perché l'epoca Muromachi nella storia alponese è stata un'epoca di grandi sconvolgimenti politico economico sociali e quindi è stata un'epoca in qualche modo rivoluzionaria dal punto di vista della sociologia stava penetrando la metallurgia l'armida fuoco che arrivavano dalla Cina tutte cose che un po' ci sono nel film ok e Miyazaki sosteneva che quell'epoca di grande confusione in qualche modo fosse utile a rappresentare un'epoca che lui Miyazaki viveva vedeva come molto confusa come la seconda metà degli anni 90 in realtà poi lo sappiamo che quella è stata l'epoca in cui inizia i cellulari poi a breve sarebbe arrivato internet tutto sommato c'era pure però a parte questo in questo scenario noi vediamo che l'umanità andando avanti nel suo progresso sta iniziando a corrompere diciamo l'equilibrio della natura e lo sta facendo per vivere nel senso quelli della fuscina lo fanno per vivere non lo fanno mica per sport però sta iniziando a corrompere e anche a compromettere un equilibrio di cui l'umanità era parte cioè l'ideale equilibrio in cui l'umanità era equilibrata con la natura va bene quindi abbiamo di fronte a questo conflitto diciamo abbiamo una divinità donna Moro che ha una sua posizione una divinità maschio Kotonushi il nome Koto il capo dei cinghiali che ha una lui è stato paragonato a Re Lear sempre da Miyazaki in particolare nella scena in cui chiama i caduti e poi ci sono queste questi oranghi per la precisione che secondo me rappresentano soltanto il fatto che ormai la situazione si è così compromessa che anche la natura stessa si sta corrompendo nel senso che anche loro pensano in qualche modo vabbè ma forse allora in questa situazione se mi mangio un umano divento anche io intelligente come un umano e troverò sembra quasi sempre una secondo me un'espressione di una situazione terribilmente confusa fra l'altro loro sono gli unici spettri che hanno gli occhi rossi cioè gli altri sono sempre ben definiti sempre naturali anche nelle loro forme gigantesche anche con più code o più corna ma le scimmie sono le uniche che vedi di notte oscure come in un'ombra con gli occhi rossi sono sempre un design in qualche modo più demoniaco vero? guardate già che abbiamo toccato un po' il contesto storico io capisco perfettamente che sia un film rivolto ai giapponesi da una cosa tutti i nomi delle divinità e dei diritti sono giapponesi tant'è vero che ho avuto grandissima difficoltà a individuarli per fino alla fine del film quando parlavano ad esempio della dio bestia non capivo tanto che fossero quasi due interpretazioni quella di giorno e quella di notte ho avuto grande difficoltà anche per tutti gli altri ora il contesto poi mi dite che è medievale e mi sembra che al di là di altri film ci siano anche dei piccoli elementi di politica barra geopolitica è troppo ma di politica perché c'è l'imperatore che vuole questo quindi ha dato gli archibugieri se non ho capito bene ai boschi molto tempo prima a mettere l'insediamento in quel punto quindi qua due domande in realtà cosa ha preso dalla verità dal contesto storico a cui lui ha attinto per creare l'universo di fantasia ma soprattutto e qua c'è diciamo c'è il domandone anche per i giapponesi era chiaro ogni riferimento a ogni divinità che viene nominata oppure ce ne sono alcune di invenzione e poi già che ci siamo come hanno capito i giapponesi questo film l'hanno capito tutto i dialoghi erano semplici non risultavano risultavano altrettanto arcaici come se è stato restituito un po' qui da noi questo è un po' un pattern di domande sul contesto che volevo fare perché secondo me è importante stavolta l'avrà studiato più di me anche solo per il contesto allora diciamo che Miyazaki Hayao è una persona di cultura ma al tempo stesso è un amante del fantastico conseguentemente mischia queste due cose Miyazaki Hayao non è un saggista è una persona che basa fonda radica il suo secondo me straordinario potere immaginifico su qualcosa in questo caso quel qualcosa era anche una verità storica però lui ci ha comunque radicato la sua fantasia in maniera completamente come posso dire smisurata senza forse alcun limite quindi a talvolta ha preso quel particolare termine pure un poco dialettale dei darabotti il nome con cui viene chiamata la forma notturna del dio bestia è anche una tradizione dialettale di una divinità delle leggende giapponesi e lei ha preso poi quella questione di un'altra a me gli piaceva quella altre cose se le inventate completamente altre cose le ha ricontestualizzate completamente tutto a comodo suo perché lui è questo tipo d'autore nel senso non si pone alcun freno per esempio il fatto che lui abbia collegato collocato scusami come ti dicevo un villaggio Emishi in un'epoca in cui gli Emishi erano già estinti è una cosa che ha fatto lui poi qualcuno ritiene che la stirpe l'etnia Emishi sia confluita in quella Aino lui invece ritiene di no perché aveva letto uno studio che diceva che tutto sommato no erano due etnia diverse e lui aveva sposato quello studio però questo capita secondo me sovente a un certo tipo di registi che magari si interessano anche superficialmente per qualcosa approfondiscono un po' poi ci creano un film basato sulla loro fantasia come Sergio Leone l'esplosione del ponte è un evento realmente accaduto durante la guerra civile ma lui l'ha collocato dove voleva poi alla fine quindi immagino io ho parlato con Marco Bellocchio per un suo film storico lui mi disse di questa faccenda non ne sapevo niente poi ho visto uno speciale sulla Rai non mi ricordo se di qua che mi è interessato mi sono documentato un po' io sono un regista ci ho voluto fare un film l'arte sta proprio in questo sta nel saper miscelare tutto quello che ci piace io da spettatore italiano che lo vede da ragazzino senza conoscere nulla del Giappone senza conoscere nulla quei rudimenti di usi e costumi chiaramente dai manga derivati dall'animazione però non proprio della società nelle sue radici questo no non lo potevo assolutamente sapere però da ciò che vedevo anche nella versione Disney filtrata anzi diciamo forse non vorrei usare il termine censurato però sicuramente trasformato per un pubblico per pulirlo per un pubblico generalizzato eh sì gli ingranaggi si rompevano facile purtroppo però quello che ho percepito è che ciò che raccontava comunque non poteva essere una cosa storica nel senso stretto dello storico cioè non sta raccontando un periodo vero che poi io fossi influenzato dal fatto che ci fossero i mostri vabbè è chiaro non mi sembra siano mai esistiti in generale però è proprio questo è tutto strano perché per esempio Miyazaki Hayao fin da giovane aveva la fissazione che tutti gli sceneggiati televisivi giapponesi i film giapponesi sui samurai in giapponese in genere vengono chiamati jidai-geki ovvero dramma d'epoca fossero delle cavolate secondo lui perché erano tutte impezzate hai presente come quando si dice che il western non era il duello era la gente che si sparava alle spalle e Miyazaki Hayao che è giapponese aveva la convinzione che a parte Kurosawa Akira tutti i film di samurai facessero tutto e lui voleva fare un film di samurai in modo suo in cui e questa è la sua idea di realismo faceva vedere la gente che in campagna scappava e veniva ammazzata a spadate sulla schiena infatti si vede quando Ashutaka scende per la prima volta si vedono tipo un gruppo di non si capisce se sono samurai gente con le spade i contadini che scappano la gente che combatte non si sa un perché un tutti contro tutti non è esattamente quella il duello quasi con le pose quasi come un balletto la coreografia tutto il contrario questo per esempio per Miyazaki era un punto di realismo di realismo storico scenico però nella sua visione ovviamente inevitabilmente come dicevi tu giustamente se questi personaggi si rifanno per detta di Miyazaki Ayao a ciò che ha fatto Shakespeare è sicuramente vero che c'è un punto di contatto perché Kurosawa ha fatto Trono di Sangue che si rifà a Shakespeare i suoi film si rifacevano anche un po' alla teatralità di Shakespeare con quel crudo realismo di cui parlavi quindi magari potrebbe esserci stata un percorso a ritroso forse l'ha capito subito questo non lo possiamo sapere però se se l'è studiato c'è è inevitabile perché si sa che Trono di Sangue è ispirato a Shakespeare la scena la scena di Occo Tonussi ormai morente che cerca di raggiungere il diciamo la sede quel laghetto che è la sede dello Cicigami del Dio Bestia e ormai viene accompagnata da Sanno come un'ancella lui a ogni passo lascia sangue e ormai già raccene adesso è anche acceccato del dolore e vede i suoi guerrieri risorgere in realtà non sono i suoi guerrieri ma sono i calcaterra e quindi sono anche i cattivi quella proprio dice Miyazaki che è ispirata a Re Lea cioè lui va a dire all'anziano attore che tra l'altro era molto molto anziano l'attore giapponese che ha fatto quel personaggio il mio attore gli si doveva parlare nell'orecchio perché se no lui era un po' sordo con la copertina recitava da seduto e gli fa dire che pensi a Re Lea quando ormai è anziano e morente guardate a proposito da adesso l'abbiamo nominato i calcaterra di o bestia è un nome di una figaggine fuori da ogni grazia divina l'ho trovato pazzesco ho capito anche perché praticamente loro sono costanti a muoversi stando molto a terra per muoversi come cinghiali di base questo quello che ho capito calcaterra è il dio bestia vorrei parlare di queste due due cose allora siccome non mi era le volte che avevo visto la principessa non mi ero mai reso conto che ci fosse ci potesse essere un equivoco e ho detto ora devo capire perché qualcuno può aver sentito l'equivoco e quindi ero pronto a percepirlo in quel modo perché dopo che uno ti ci mette il pallino in testa esatto dici ora lo sento e sentirò quello no 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 non è possibile chiunque guardi il film e senta dio bestia guardando le immagini il contesto ma soprattutto il contesto anche del dialogo è impossibile cioè non ci credo che c'è qualcuno che abbia frainteso ora se è accaduto potrebbero essere quelli che chiamo sfogliatori di anime cioè quelli che proprio lo guardano per dire che l'hanno visto non per guardarlo per davvero e ovviamente guardi ora risponde però volevo sapere Domenico se su questo punto che secondo me è una di quelle cose che di colore che sono uscite fuori un po' nel tempo io li i frammenti che diventano verità è una bugia ripetuta tante volte finisce per diventare una verità di solito è così io sono cresciuto con quella creatura che si chiamava vabbè Shishigami lo Shishigami poi era il dio cerbo il dio della foresta colui che cammina nella notte ora è il dio bestia per me sono tutti nomi intercambiabili cioè resta nella mente lo Shishigami perché io faccio così per me resta spesso parlo di Dragon Ball e dico questo personaggio è Goku questo personaggio è Vegeta però poi mi rivolgo agli altri e dico Vegeta Vegeta Goku Goku e così via per me anche lo Shishigami adesso è il dio bestia e quando l'ho visto questo l'ho visto al cinema chiaramente l'ho visto al cinema e poi l'ho rivisto in un video a parte che in sala non ci sono state risolini o grida non è successo niente cioè assolutamente tutti molto rapiti dallo spirito del film e sicuramente anche dal doppiaggio stavolta più degli altri lo ripeto perché per me era così è così credo che sostanzialmente sia una cosa che possa far ridere qualcuno sì ma poi è di una bassezza intellettuale tremenda cioè ridere perché quello si chiama dio bestia poi che cambiava si chiamava dio cervo che cambiava si chiamava cosa cambiava cosa cambiava dio cervo è peggio dio cervo è peggio cioè non lo so cioè forse sempre naturalmente il nostro paese è sempre legato questi fattori cristiani è il mio rettaggio culturale giudaico cristiano quindi figuriamoci lo so benissimo come deve funzionare tutti con la catena battesimale a invocare la madonna anche durante le feste pure se durante le feste magari ci scappa il morto però l'importante è che siamo votati alla madonna che siamo votati a questo a quel santo eccetera eccetera che poi che poi io ho vissuto non so se lo sapete ho vissuto un anno in Spagna la bestemmia non esiste come la intendiamo noi ci sono delle espressioni che noi interpreteremo come bestemmia che adesso se io la dicessi voi vi tappereste e piangereste solo noi la diciamo in quel modo poi poi in privato vi dirò come la dicono in Spagna e qua immagino i curiosoni nei commenti lo chiederanno e poi magari ve lo metto ma è anche chiaro ma in realtà la bestemmia la dice che è ancora più credente perché è un modo per evidenziare che quella cosa esiste c'è ne parlo anche male perché c'è la bestemmia è del credente più dell'ateo in generale non lo so non lo so mi sembra una cretinata e poi dopo ci hanno calcato la mano si ride ok fa ridere decontestualizzata qualsiasi cosa fa ridere decontestualizzata assolutamente questa cosa del qualsiasi cosa è verissima tant'è che prima che si parlasse di meme in televisione nei programmi tomici si parlava di tormentoni e quando una parola una qualsiasi parola una qualsiasi espressione la più banale viene messa nella testa nell'idea che debba far ridere far ridere perché diventa un tormentone nel senso anche non ci posso credere era diventato un tormentone già e sembrava che quella frase fosse bandita dai dialoghi cine televisivi perché ah no vai far ridere però al di là di questo discorso verissimo io mi permetto di dare a voi due delle spiegazioni un po' più tecniche se posso ma avanti assolutamente perché è anche un po' il mio no allora i calcaterra poi arriviamo anche a shishigan i calcaterra in giappone si chiamano jibashiri e jibashiri è scritto diciamo nella scrittura di tipo fonetico cioè non con i kanji che contengono il significato con i segni fonetici è scritto in kataka tant'è che quando io stavo lavorando su film vado a cercare dato che ormai c'era già internet andavo a cercare chi voleva dire jibashiri per decidere se tradurlo oppure no innanzitutto no perché sul dizionale non c'è che vuol dire jibashiri è scritto in katakana sul dizionale non c'è che vuol dire e le prime cose che ai tempi mi vennero fuori erano delle pagine di ask con i giapponesi che si chiedevano ma che vuol dire jibashiri quindi ho pensato forse così la valissiana non è e la risposta che si davano era esattamente quella che hai dato tu domenico ovvero sono quello che sono sono quello che si vede si chiamano così poi hai impiegato un po' di più e per jibashiri mi venne in aiuto tu pensa il copione di questo film ufficiale cinese e sai perché? perché in cinese hai solo i kanji non hai caratteri fonetici quindi ho scoperto dato che i kanji in teoria sono gli stessi ho scoperto come si scriveva con i kanji questo composto e cosa voleva significare allora c'era jibashiri che è terra e bashiri che sarebbe hashiri correre quindi terra correre quindi questi sono una specie di elite di cacciatori una casta però anche una casta di appestati perché fanno schifo a tutti e si chiamano quelli che corrono sulla terra allora ha fatto una ricerca sulla logica di costrutto e viene fuori che questo è lo stesso tipo di costrutto che si utilizza per certe razze animali tipo il road runner corridore della strada quindi sarebbero i corridori della terra nel senso che questi stanno proprio a stretto contatto con la terra quindi dato che questa parola è giapponese in un testo tutto giapponese e anche se è più o meno incomprensibile spiazzate anche i nativi comunque loro lo sentono che è la loro lingua cioè qualcosa gli evoca ho pensato di creare un neologismo che in qualche modo potesse avere un potenziale evocativo nella nostra lingua tanto qua da cui Calcaterra il discorso di Shishigami è ancora un po' più complicato perché Shishigami è scritto ufficialmente metà in metà cioè Shishi è scritto in katakana foneticamente Gami è scritto col kanji di Kami Dio e vabbè Dio Dio Shishi Shishi in katakana in teoria il primo significato di Shishi sarebbe leone non vuol dire cervo cervo si dice Shika non Shishi se fosse Dio Cervo sarebbe Shikagami tra l'altro la parola Shika c'è dentro il film quindi è anche presente guardando il The Making Of del film giapponese si vede che sui primi schizzi quelli che si chiamano i Mage Board Miyazaki lo scriveva col kanji di cervo ma con la sua lettura arcaica di Shishi il kanji di cervo letto come Shishi e non come Shika ovvero con la lettura arcaica non significa cervo ma indica tutte le bestie da caccia quali cervi e cinghiali che abitavano le foreste giapponesi quindi Miyazaki si è reso conto che se lo scriveva col kanji tutti quanti avrebbero letto cervo avrebbero letto Shikagami allora l'ha scritto con i caratteri mezzo e mezzo con i caratteri fonetici perché lui è Dio Gami non solo cervo bestia in senso lato non è neanche delle bestie perché non è Shino Gami è proprio Shishigami e che lui è tra l'altro nigorizzato quindi un'unica parola lui è proprio il Dio bestia e nella versione quella presente alla tua lo chiamavano il Dio Cervo non lo so lo chiamavano Dio della Foresta oh beh perché no beh effettivamente se uno lo vede graficamente è un po' una chimera cioè ha delle zampe diverse dal cervo le cornano poi non sembrano quelle del cervo poi ha una faccia un po' una faccia da babbino esatto esatto da babbino con la barba pure che sembra una barba quella peluria che è una criniera in realtà mi sembra una barba e quindi è un po' una chimera assomiglia leggermente no ma assomiglia leggermente alla trasformazione di Chopper quando prende la rumble ball ok ok va bene un pochino poi guardate guardate io ve lo dico un pochino ma non è che devi filare per forza One Piece in ogni cosa Domenico ammetterei che quella dello Shishigami in Giappone tra gli autori di manga è sicuramente un'immagine che è diventata molto iconica esatto poi il film è uscito quando ha cominciato proprio a farlo One Piece quindi probabilmente potrebbe anche esserci un'influenza perché no quindi sai quelle cose che restano dietro la testa degli autori che poi non è che vogliono fare la citazione però ti riesce fuori capito se ti è impressionato ti riesce fuori infatti è impressionato cavolo mi sono reso conto che siamo a un'ora e cinque e che sto film forse richiedeva qualche minuto in più e magari giusto cinque minuti ci riprendiamo c'è una cosa che ho notato perché poi quando arrivo a quest'ora arriva il mio momento pattern dom praticamente ormai è il mio gioco che faccio con Gualtiero devo individuare i pattern nei film e ho notato nei precedenti film una certa attenzione ai soldi vabbè non te la nominerò non te la ripeterò perché l'abbiamo detto nella puntata cosmo buta comunque sempre che nei mondi di Miyazaki per esempio facevo notare che in Porco Rosso tutto va bene cioè sto parlando con un maiale che parla totale fantasia ma quando rivediamo l'aereo dei pirati non avevo soldi per ripitturarlo totalmente mi ha sempre fatto sorridere però questa volta io vedo una rottura forte del pattern di un pattern penso che fosse almeno nei film che ho visto io il volo cioè in tutti io ho visto Laputa Nausicaa Kiki Porco Rosso e in tutti questi film ho apprezzato ogni volta lo strumento il modo di volare che cambiava di continuo l'aereo l'alliantino quello dietro la pietra che fa lievitare eccetera in questo film invece c'è la terra perché i personaggi si muovono a dorso di animali devo dire che lo San Becco è il più figo di tutti quanti anzi a un certo punto diventa proprio un personaggio Jakul Jakul come mai ci si separa dal volo guarda in un mio slancio interpretativo naturalmente perché non so forse Miyazaki voleva rimanere come si suol dire coi piedi per terra con una grande battuta incredibile sì è vero manca questa cosa del volo non c'è non c'è nemmeno qualcosa che faccia riferimento a un altro tipo di divinità con le ali ci sono i i spiritelli della foresta ci sono cinghiali ci sono altri tipi di animali sempre a terra nemmeno pesci in realtà nemmeno divinità pesce quindi nemmeno l'acqua è proprio soltanto il suolo calpestabile la terra come viene contaminata da chi viene calpestata e infatti poi alla fine del film viene calpestata da colui che cammina della notte che diventa gigantesco il dio bestia diventa gigantesco e calpesta la terra ancora più forte la rovina quando perde la testa e la rovina completamente quindi credo che volesse cercare di puntare l'attenzione davvero solo su quello tra l'altro come diceva prima Gualtiero è sempre raggiante il verde in questo film che poi diventa onnipresente alla fine e credo sia proprio quello il senso restare sempre lì nella terra capire cosa ci fanno con la terra come viene utilizzata e chi la abita e chi la calpesta soprattutto penso fosse questo il modo di di voler raccontare di Miyazaki Aya sicuramente è stato un trauma separarsi dal volo Gualtiero sicuramente questo sì adesso ti spiego perché questo è sicuramente il film più disilluso di dell'autore tra l'altro mi ha fatto ricordare Domenico Caverna una scena che mi colpì tantissimo anche quando il film non mi era piaciuto tanto ovvero la prima volta che si vedono le zampe gli zoccoli dello sciogliano del dio bestia che cammina ogni volta che lui pose uno zoccolo intorno allo zoccolo fiorisce la natura e è secca nel senso si compie il ciclo della vita questa cosa mi colpì tantissimo però forse su sicuramente Domenico Dandy non lo sai perché è una cosa particolare forse Caverna lo sa quando Miyazaki aveva iniziato a fare questo film aveva finito il manga di Nausicaa il manga di Nausicaa era iniziato proprio sulle ali di quel sogno del volo nel senso Nausicaa che vola col suo aliante c'è tantissimo volo in Nausicaa il manga di Nausicaa finisce pesante 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 trovare la quadra per dire quello che volevo dire ho già capito dove stai andando a parlare come sempre accade quando un autore gli viene il blocco dello scrittore su un'opera deve fare qualcosa altro quello che mi ha invece fu come ho capito che Domenico ha capito un video musicale di una canzone che si chiama Onyomah se tu vuoi vedere quel video musicale che è ancora più violento di Mononokihime in realtà perché praticamente all'inizio ci sono delle scene di come posso dire è un'operazione bellica da non si fanno prigionieri e si spara in faccia alla gente una cosa che si vede nella prima metà del primo film di Evangelion ovvero in Ea l'episodio 25 le stesse scene quando le forze strategiche di autodifesa regolari giapponesi invadono il quartier generale della NERF lo fanno esattamente come i soldati di Tolmechia invadono la nave di Pegite in Nausicaa e dello stesso modo in cui accade in quel video ovvero tu fai irruzione tipo tesche di cuoio ammazzi tutti spari addosso la gente e usi lanciafiamme le granate ok quindi Miyazaki fa questo video che in realtà in questo video viene trovato una ragazza con le ali d'angelo Miyazaki ci tiene a precisare che non è un angelo è un Tolino Kito una persona uccello così come veniva chiamata Nausicaa Tolino Kito e essenzialmente poi questa angioletta io la chiamo per affezione è qualcosa da cui i protagonisti si affrancano cioè la lasciano libere c'è molto la sensazione che in quel momento Miyazaki avendo chiuso il fumetto di Nausicaa aveva tentato in qualche modo di affrancarsi di liberarsi da quel sogno che forse ormai lui considerava fin troppo giovanile non lo so non sono lui però sicuramente in mano a chi me non si vuole esattamente come hai detto non vuole a nessuno fantastico siete stati veramente bravi non voglio ancora chiudere c'è una cosa che a direzione sono stato il direttore quindi non è perché l'avete lasciato da parte voi ma perché l'ho lasciato da parte io in effetti non abbiamo parlato della protagonista cioè della controparte femminile della principessa Mononoke ora vi dico un attimo l'impressione che ho avuto va bene a me sembra chiaro che sia un po' ci sia non so se è successivo precedente comunque lo guardo e dicevo vabbè ma questo è Mogli del libro è la giungla abbandonato e levato dai lupi mi fa ci sono quelle cose che il suo personaggio è una cosa che odio in tutti i film quando poi devi dipingere per forza qualcuno qualcosa un'indità o un'istituzione in modo negativo è troppo che i genitori l'abbiano lasciata indietro per salvarsi la vita e farla mangiare dai lupi che poi alla fine non se la mangiano e alla fine il personaggio se non ho capito male non fa parte di nessuno dei due mondi cioè non è cane non è uomo non è lupo sa soltanto quello che non è anche se lei vorrebbe essere lupo fatemi un approfondimento un po' su la principessa mononoke che ha dato il nome al film e l'abbiamo lasciata da parte io ricordo che prima di questa sceneggiatura il film doveva avere se non sbaglio non un mononoke ma un proto mononoke come protagonista che si innamorava di di una divinità di una bestia all'interno di questa foresta però poi la produzione si è allungata si è spostato su ogni remark come diceva prima Gualtiero e nel frattempo l'America ha fatto uscire la bella e la bestia quindi ha detto mi sa che alcune cose le ho fatte un po' con Totoro un po' le hanno fatte già gli americani forse è meglio che cambio forse è meglio che cambio e racconto un'altra storia e meno male perché poi ci ha regalato una grandissima storia lei è un personaggio sostanzialmente a metà e credo qua faccio una mia critica perché i personaggi femminili di mia azienda perché in realtà non è soltanto San la protagonista femminile secondo me le protagoniste femminili sono tutte sono tutte quante sono tutte quante poi è ovvio che la personalità sia splittata in Eboshi e San sono le due facce della stessa medaglia e questa è una critica che io faccio a Miyazaki perché trovo sempre che non riesca a definire la donna nella sua completezza cosa che invece riesceva sempre a fare Sakata Isao una donna che sia buona e cattiva ti dà lo schiaffo e al tempo stesso ti dà il bacio invece i personaggi femminili di Miyazaki o sono quadrati o sono tondi non riesce a farli esagonali triangolari strani brutti ma anche affascinanti no li deve dividere e chiaramente poi San è quella che grazie all'onestà e alla nominità d'animo di Ashitaka riesce a comprendere qualcosa in più del mondo che la circonda perché poi lei è chiusa nella sua bolla odiata dagli uomini odiata anche dagli altri spettri perché soltanto i lupi se la sono cresciuta è a metà è un po' incompleta e comunque non trova completezza alla fine del film perché potrebbe forse trovarla con Ashitaka e chi lo sa non si risolve potrebbe trovarla ancora con gli uomini e chi lo sa non ci va ancora con gli spettri forse si sente più spettro che uomo è certo però chi lo sa come va a finire secondo me la poesia del personaggio per quanto sia diviso è anche questo il fatto che è in divenire è in divenire è proprio così quello che diceva ti ricordi Domenico Delli è un po' un discorso che facevo anch'io l'altro giorno quando parlavo che Miyazaki Hayao fa sempre queste coppie femminili che sembrano rappresentare i due lumi che facce della femminilità splittate dico a Platone che secondo me Miyazaki Hayao si sagna ancora la notte Hilda di Holtz della grande Holtz sì per forza sono convinto di questo al di là di a parte è verissimo allora c'è un solo personaggio secondo me Domenico femminile che anche se ha una controparte e quindi c'è sempre un dualismo come dice anche Hilda Hayao il vice regista del film in questione Katayama un po' anomalo di Miyazaki che è Nausicaa mica per niente perché Nausicaa sarebbe quella pura no? perché quella sporca ovviamente è Kusiana quella truncida e Kusiana che ammazza bla 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 Nausicaa sarebbe proprio ma anche Nausicaa è un'assassina alla fine del manga poi lasciamo perdere che l'assassina diventa quindi in qualche modo se noi cerchiamo un personaggio classico di Miyazaki che abbia in sé entrambe le facce è Nausicaa e questa Nausicaa secondo me viene riproposta chiaramente in mononote in San però in una versione più giovanile perché Nausicaa ha anche un aspetto e intenzionalmente ha un aspetto materno ha un seno prosperoso e in qualche modo ha questa questa presenza quasi un po' diremmo noi occidentali da madonna del latte non voglio dire però c'è questo questo aspetto di maternità al contrario San è completamente giovanile e fanciullina benché sia esattamente come diceva Domenico una fancellina divisa lei scissa una scissione psicologica in senso freudiano perché non è né carne né pesce e sta in mezzo alla carne al pesce quindi così come il protagonista maschile la shitaka arriva da un'epoca passata che non c'è più e si trova in una guerra che non è la sua lei è in mezzo a quella guerra ma ha un piede da una fazione e un piede nell'altra fazione per natura quindi chiaramente è divisissimo ma al di là di questo ti volevo raccontare questa cosa Domenico Platone hai presente la scena di quando dopo quella che raccontavi tu di quando accade a tramortito lei è lei e si porta via San e poi a scendere è stato trafitto da una pallottola da una pietra da lancio allora sviene pum casca San si riprende perché è tramortita e gli va vicino e gli dice ma tu sei ferito stai morendo proprio così no in realtà ma te hanno sparato stai morendo e ovviamente l'attrice originale la fece tutta drammatica questa battuta no e Miyazaki dice no 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 la devi fare con la mente semplice di una bambina che chiede ma com'è che c'hai i pantaloni sbottonati vuol dire lei diceva Miyazaki lei sta chiedendo una in un momento drammatico sta facendo una domanda completamente stupida completamente ovvia perché lui sta sanguinando è ovvio no chiede a uno che sta morendo se sta morendo ma lei ha una mentalità completamente infantile perché è cresciuta nell'isolamento questo diceva Miyazaki e per di più è cresciuta con una madre che gli avrà ripetuto da quanto è nata quanto sei brutta perché ovviamente per la madre è una figlia sono i lupi quindi lei essendo male è brutta ovviamente la faccia è allora infatti è molto indelicata è molto indelicata quando glielo dice ma come stai stai morendo è una cosa che dà un fattito ma te hanno sparato stai morendo e poi sguigliati adesso ti faccio una domanda e rispondimi prima di morire e poi che sei morto mi vuoi rispondere a pretendere grande chicca ma adesso penso di darvene una io attenzione a parte che vabbè lo dico perché so che poi nei commenti avrebbero chiesto ma qui i soldi non ci sono no viene comprato il riso e c'è anche un dibattito sul valore delle pepite quindi attenzione anche qui anche qui c'è perché lui non conosce il bravo non conosce la valuta lui è un emiscio deve intervenire deve intervenire l'infingardo a spiegare il valore della pepita questo povero monaco esatto sono solo un povero monaco però penso che magari potrebbe potrebbe valere tanto almeno questo almeno questo ma non perché ti ho aiutato vorrei qualcosa in cambio dice il monaco mi ricordo di caverna che non appena stanno consumando il primo pasto il povero monaco ha scitato la sua ciotola e lui non può evitare di notare che è laccata bene esatto non è bene lavorata l'hai pagato tu l'hai pagato tu il riso prendile quanto ne vuoi gli fa tremendo attenzione c'ho un'ultima chicca per voi in realtà cioè spero che me la rivederete c'è un allora purtroppo quando si guardano i film c'è sempre quella cosa che ti porta fuori strada ti do un oggetto so già che servirà qualcosa che ne so mettiti questo orologio nella tasca sinistra ha protetto mio padre in guerra già sai che qualcuno sparerà e beccherà l'orologio quando all'inizio viene dato quel ciondolo pensavo pensavo sicuramente elemento risolutivo perché non me lo ricordavo il film in realtà ok 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 ho capito forse forse che quello potrebbe essere l'anello di nozze che dà alla principessa mononoke cioè loro si uniscono quando lei poi gli infila pure il coso qui nella spalla perché e poi si completa secondo me tutto quanto perché lui prima sale sul dorso del lupo il lupo gli fa sei troppo lento sali su di me lui è accolto in famiglia lui è accolto in famiglia e poi si è sposato perché non è servito a niente sennò qualcosa puoi entrare nel cerchio no perché se no non è servito a niente se vuoi dire era era uno strumento io non sapendo non sapendo i rituali eccetera io penso è uno strumento di di buona salute ci accomiatiamo te lo lascio poi magari torno a riprendermelo una scusa per rivederci una scusa per rivederci così ho avuto un lampo allora tu ti ricordi da dove arriva quel pugnale di ossidiana ti ricordi da dove arriva glielo da la sorella non è la sorella è la fidanzata non dice che è la sorella sorellina fratellone no non dice così lo diamo a sommo fratello perché questa cosa è fighissima allora quando stavano doppiando la versione giapponese questo sempre per il discorso di ama in giapponese si capisce tutto quando stavano doppiando la versione giapponese lo possono vedere tutti cioè nel The Making Of non è che ho comprato tutte le copie e l'ho distrutta quando stavano doppiando le lezioni giapponese gli attori pensavano che fossero fratello e sorella tra l'altro l'attrice di lei è la stessa attrice di San quel film l'hanno fatto con tutti i soldi del mondo quindi non è un doppione per risparmio ok allora essenzialmente aspetta gli attori doppiavano quel film e pensavano che fossero fratello e sorella perché lei chiama lui Anisama cioè sommo fratello allora a un certo punto Miyazaki entra nella sala di doppiaggio e dice no no ma voi dovete capire che questo è un piccolo villaggio quindi si chiamano tutti zio, zia, fratello e ci sta è bellissimo e si ha il doppiatore del protagonista maschile con la faccia tutta seria che fa ah suone ma capisco ci sta la doppiatrice della protagonista femminile con la faccia allucinata che sembra pensare mannaggia a me a quanto ha accettato sto lavoro veramente la faccia sì sì certo come no ma è questa quella scena quando essenzialmente lei si vota a lui perché spiega il regista siccome lei dà il suo pugnale nuziale a lui lei non si potrà più sposare lei si è votata a lui perché lui è morto per la comunità già lei per salutarlo ha intervenuto la legge tribale quindi infatti lei dice ne subirò la punizione cioè accetta la punizione già però gli dà col pugnale in sua vece come dire siccome non ti puoi portare me come sposa portati questo in mia vece vabbè infatti questa cosa queste sono le cose di quando Miyazaki esagera con romanticismo e proprio colore a proprio fuori dalle righe ma lui è un romanticone a suo modo lo adoro per questo quel pugnale ha scitacolo da San e poi San glielo ripianto addosso è pazzesco e lo potrebbe essere potrebbe essere quello che ho detto in teoria un simbolo di sicuramente era da prima un pugno d'amore e poi forse diventa un pugno di vita non lo so sicuramente c'è un simbolismo perché prima qualcuno di voi non mi ricordo chi ha detto diventano marito e moglie a un certo punto fa forse il momento mi sembra un tiro perfettamente affiatati perfettamente all'unisono come una coppia proprio sposata da tempo che si capisce con un cenno è presente ok è un po' così allora beh io direi che quello che potevamo fare nei tempi che ci siamo dati lo abbiamo fatto benissimo non so Domenico come ti sei trovato Caverna secondo te è un buon contenuto che stiamo offrendo devo dire la verità l'italiana degli appassionati animazione eh chi si loda si imbroda e lo diranno gli altri se abbiamo fatto bene o male però penso che abbiamo dato il massimo in questo poco spazio che avevamo guarda assolutamente in più volevo chiudere su una nota tu Caverna ovviamente forse mai come in questo film un po' anche in pacco rosso però in una versione un po' più favolistica così fantasizzata però mai come in questo film è verissimo che è forte 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 quel senso che dicevi tu che il pezzo debole è in realtà la spina dorsale dell'umanità in quello che mette in scena Emilia Zaghi però al tempo stesso è fighissimo perché siccome Miyazaki è un manticone il suo collega che è Suzuki Toshio dice Miyazaki percepisce il mondo come fatto da due metà del cielo maschi e femmine e ogni volta fa che ci sono protagonista maschile e femminile che si incontrano si guardano e si innamorano definitivamente subito ma è persino in pugno così persino in pugno rispondo a bambini ma è come in questo film è proprio fighissimo e questa cosa è entrata nella storia del cinema d'animazione giapponese perché quando loro si vedono lui fa tutta la presentazione nobiliare sai quando c'è lei che sta succhiando il sangue via dalla ferita della madre lui fa tutta la presentazione nobiliare come il nobile cavaliere e lei lo guarda fa vattene esatto subito stupendo una dinamica di coppia fantastica è vero è vero secondo me forse sono anche queste cose che mi che me l'hanno fatto piacere più degli altri perché sono veri sono vivaci sono veri lui ci prova in tutti i modi lei non vuoi sapere niente via fuori però poi guardate guardate oltre grazie allora ora chiudo con ringraziamenti a domenico e a Gualtiero ovviamente e penso sia stato davvero un buon contenuto questo è il nostro quinto episodio come dicevo all'inizio abbiamo già visto approfondito in queste modalità come avete visto altri film di Miyazaki al 3-4 quindi questo è il quinto e ultimo dove parliamo di Miyazaki almeno per questo per questo tranche per quest'anno ora Gualtiero poi mi dirà mi dirà esatto dove in che direzione prenderemo volevo dire una cosa che mi sono reso conto questa sera che anch'io che non ero abituato ormai dico Miyazaki a Yao e no a Yao Miyazaki e quindi un po' di contagio qual tirano ce l'ho avuto nonostante io non sia mai attento alla pronuncia di noi esatto tutto non c'è 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 però per me era una delle prime volte che lo sentivo e man mano che lo sento mi ci abituo entro nel mood e volevo dire a tutti i nostri spettatori due cose che possono recuperare gli altri episodi di Manga e Anime sul Serio ma che noi la settimana successiva quando andrà in onda questo appuntamento faremo una live di approfondimento per rispondere un po' a quello che magari abbiamo lasciato indietro o che nei commenti ci avrete stimolato. Ovviamente neanche a dirlo, se Domenico è libero quella serata, io glielo dirò, potrà venire tranquillamente, sarà una chiacchierata più rilassata il live, i commenti e tutto quanto ma intanto... Sono rilassatissimo anche perché questa sera mi sono trovato bene anche perché spero che anche Domenico Caverna possa proporre questo contenuto sul suo spazio dove ovviamente lui ha un seguito di persone che lo apprezzano specialmente e che potrebbero proporgli numerose domande anche perché questo è un film comunque di denso contenuto Verissimo, non mancherò di farlo, anche se non dovessi essere disponibile è ovvio che accadrà Perfetto, quindi ti ringrazio Dom, seguite Domenico se non lo conoscevate ma mi sembra difficile Caverna di Platone su Twitch è molto spesso in live è ovviamente sul suo canale YouTube Caverna di Platone dove di contenuti interessanti ne trovate a migliaia ma segue anche cose molto più popolari in questo momento anzi dovremo trovare il modo di vederci se non l'abbiamo penso che qui ancora nessuno ha fatto il film di di quell'anime che ha battuto La Città Incantata prima o poi dovremo vederlo e commentarlo perché io ho visto l'anime e mi è piaciuto tantissimo sono curioso del film ma questo è tutto un altro esatto esatto vi ringrazio di averci seguito ora datemi solo il tempo di fare un piccolo datemi due secondi perché devo fare una cosa e cioè si adesso compare sta cosa che è una schifezza in realtà ma questo è fantastico ciao a tutti ciao a tutti